L'incontro con la giudice Navarretta lo definirei meraviglioso. Vedo questo come un'opportunità di coinvolgere più i giovani nella partecipazione politica e di creare un pensiero un po' più critico. Penso che i 12 principi della Costituzione mettano le basi per tutti i diritti fondamentali che devono aspettare all'uomo, in particolare penso come abbiano già sottolineato l'articolo 3 che stabilisce l'uguaglianza sostanziale ma anche quella formale per garantire a tutti i cittadini italiani un pari trattamento e una pari dignità e rispetto. I miei articoli preferiti sono l'1 e il 4 perché questi due trattano del rapporto del lavoro e la Repubblica. I valori della Costituzione che sento più vicini a me sono l'uguaglianza e molto importante è l'articolo 3 della Costituzione che parla di uguaglianza formale e di uguaglianza sostanziale. A casa mi porto una nuova consapevolezza come ha affrontato anche uno studio più approfondito delle leggi prossimamente e affrontare le questioni in maniera più critica prima di esporre un pensiero o anche una domanda. Sono stata onorata di essere in presenza appunto di un membro della Corte Costituzionale e sono felice di aver avuto l'opportunità di fare questa esperienza.